Una partita dalla notevole rilevanza, una partita dal grande significato. Così definirei Milan-Sparta, così definirei la vittoria del Milan sullo Sparta. Dodicesima partita consecutiva che vede il Milan realizzare più di due reti. 12 partite consecutive più di due reti. La squadra che l'anno scorso nelle ultime 12 aveva realizzato 35 reti. Il Milan oggi, fino ad oggi, rappresenta spettacolo, divertimento, emozione e sensazioni forti. Ma riparto dalla prima affermazione, la rilevanza della partita di ieri. Perché? Qualcuno mi dirà, sul piano della classifica il Milan va in testa, ipoteca al passaggio del turno, visto anche il pareggio del Lille in casa col Celtic. Quindi non vediamo questa partita di ampio significato. No. Invece è stata una partita di straordinaria importanza per Pioli e per i dirigenti. Per i Pioli e per i dirigenti perché? I dubbi che ancora qualcuno, e mi metto anch'io, i dubbi su ruoli che secondo me non erano forse coperti in maniera totale, ora sono fugati. Soprattutto, soprattutto il ruolo di vice Hernández o di alternativa a Teo Hernández. Dalot ha risposto alla grandissima. Prima sembrava che il Milan avesse quattro destri e solo uno a sinistra. Oggi possiamo, e può lavorare in questo senso Pioli, inserire Dalot sulla fascia di sinistra, permettendo a Teo Hernández di respirare, lui che ha un modo di giocare molto dispendioso. Queste fughe devastanti avanti e indietro. Quindi il fatto della risposta di Dalot, ragazzo intelligente, molto intelligente, che come a Glesgo è partito piano, senza svolazzi, capendo il suo ruolo, e poi ha incominciato a spingere trovandosi due volte, uno per l'assist, uno per il gol. Per me è fondamentale, fondamentale per le scelte di Pioli, future, e soprattutto per le scelte dei dirigenti, che forse si occuperanno del difensore centrale valido per il presente e anche per il futuro, ma per quello che riguarda i ruoli sulle fasce forse non servirà, almeno fino alla fine della stagione, nulla di più. Quindi importante, la difesa è a posto. Se non si vuole voglia prendere uno molto forte alternativa a Chierro Magnoli. È rientrato anche Duarte, quindi a livello numerico ci siamo. Per quello che riguarda il centrocampo, Tonali è in grande crescita. Nessuno ha mai dubitato sulla forza di Tonali, che ieri poi Ascai ha ribadito che è stato fermo a casa un mese e non è stato facile riprendersi. Quindi il fatto che poi Tonali stia ormai arrivando alla miglior forma, con Chessy e Benasser, il Milan ha un tridente di centrocampo di assoluto valore europeo. Krunic, altra bella risposta. Giocatore che ha giocato poco nella scorsa stagione, ma che anche inserito davanti è molto eclettico, molto duttile. Può contare molto anche Pioli sulla polivalenza. Altro elemento positivo. Leao. Leao lo puoi mettere dove vuoi. Ha il suo modo di giocare dondolone, che non è che ecciti a volte più di tanto. Però fuga con il tiro sul portiere. Gol, presenza e lo puoi mettere tu al posto di Ibrahimovic. Ha risposto bene. Con Leao un po' più laterale, Diaz più centrale, quasi forse un falso attaccante. Quindi l'ho notato ieri. Anche lì il Milan non dà punti di riferimento, perché Leao tende sempre a partire un po' più sulla fascia. E Diaz, quando parte centrale, può essere sempre letale. Quindi altro motivo di soddisfazione. Contare su un Diaz di grande livello e contare su un Leao in crescita, in attesa di Rebic, in attesa di Aoke. Quindi doveva dare una risposta sul valore della panchina, a livello qualitativo e a livello quantitativo. Il Milan dalla partita di ieri sa di non avere 12, 13, 14 giocatori, ma di averne già 16, 17, 18, che possono entrare e fare la differenza. Perché Diaz è un campione di valore assoluto. Leao è un campione, con i suoi alti e bassi, di valore assoluto. Dalot è un grande giocatore. Non parliamo di tonali. E quindi ecco che il Milan ci lascia più tranquilli. Oggi mi dicevano ma ha altri segnali. Ma che segnali deve dare ancora il Milan? Sono 23 segnali di esserci. Chiaro, poi può esserci la parita sfortunata. Ce n'è stata una rimediata con la Spal che avrebbe potuto interrompere da subito questa lunga serie di partite. Udine sarà una parita complicata, giocata alle 12 e mezzo, con mille problemi. Però anche a Udine vedremo un Milan sicuramente difficile da battere. Rientra Rebic, in questi giorni comincerà a lavorare con la squadra, magari in panchina a Udine. Ma giunti a questo punto, visto la risposta di Leao, visto la risposta di Brahim Diaz, io lo farei lavorare pronto per metterlo in panchina e farlo entrare contro il Lille giovedì prossimo. Quindi questa è la situazione del Milan oggi. Un Milan che dunque oggi è più forte di ieri mattina. Oggi è più forte di ieri mattina, prima della partita, di 24 ore fa. Perché il Milan può contare su grandi giocatori, grandi giocatori che possono certamente essere utili e sostituire quelli che vengono considerati titolari. Qualcuno dirà, è però peccato poi perdere Dalot e perdere eventualmente Brahim Diaz. Il ragionamento della dirigenza è stato diverso. Il ragionamento della dirigenza è stato diverso. Incominciamo a vincere con questi prestiti. Poi, prossima estate, quando ci sarà da discutere, ne discuteremo. Ma questi prestiti in questo momento ci aiutano a vincere. È stato quello che mi ha detto una volta Ricky Massara. Lo ripeto e ha ragione perché anch'io gli ho detto scusa però peccata non è il caso di prendere i giocatori invece di prenderli in prestito. E lui mi ha detto guarda sono giocatori di grande valore, di grande spessore. Incomincino a darci una mano per arrivare dove noi vogliamo. Poi ci penseremo e trovo che questo ragionamento sia perfetto e trovo che questo ragionamento sia perfetto. Incominciamo a vincere. Poi discuteremo se lasciarli vogliono delle grandi cifre e ne troveremo degli altri. Certo che siamo affezionati già a Brahim Diaz. Certo che Dalot è un grande giocatore. Poi lo stesso Brahim Diaz e Dalot. Certo andate a Manchester e andate a Madrid per giocare o volete magari giocare ci auguriamo la Champions League con il Milan da titolari o quasi titolari. È una risposta che poi ovviamente è una risposta che poi ovviamente la devono dare i giocatori. Però indubbiamente quella serata del 29 ottobre è stata una serata fondamentale per le fortune di oggi e di domani del Milan di Stefano Pioli. Se vi è piaciuto questo video mettete il vostro like e iscrivetevi al canale YouTube di Carlo Pellegati.